good morning beautiful people e bentornati sul mio canale buon anno nuovo buon 2020 siamo entrati in una nuova decade lo so che lo stanno dicendo tutti e lo sapevamo anche da soli grazie ma quest'anno per me molto importante perché faccio 30 anni e è solo un anno in più non sono molto legata all'età o a niente di questo tipo però voglio che il mio il mio trentesimo anno sia un anno da ricordare non voglio fare cose particolarmente bizzarre o tipo buttarmi col paracadute da un aereo assolutamente no però voglio che sia un anno ricco voglio che sia un anno pieno di cose voglio che sia un anno dedicato al self discovery e quindi lo strutturate in una maniera particolare che di cui dopo vi parlerò comunque facciamo un breve recap innanzitutto iniziamo quest'anno con un coffee talk come al solito questa attenzione l'avete già vista quindi non ve la so neanche a presentare e però torniamo alle buone abitudini perché il coffee talk è uno è una serie che vi è piaciuta molto l'anno scorso e quindi ci accompagnerà anche durante quest'anno mi piace perché ha uno spazio in cui possiamo parlare molto tranquillamente aggiornarci affrontare delle tematiche che anche voi mi sottoponete vi ricordo appunto che io cerco di utilizzare questi questi episodi anche per rispondere alle vostre domande che mi fate qui nei commenti e ma anche su su instagram quindi se avete qualsiasi curiosità è legato alla comunicazione digitale al personal branding al lancio di un piccolo business eccetera fatemelo tranquillamente fatemela tranquillamente e niente allora l'anno scorso è finito un po in qua 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 perché purtroppo ho finito l'anno con qualche problema di salute niente di grave assolutamente però è qualcosa che mi ha rallentato un po e a cui ho dovuto dedicare tempo quindi o sono da una parte o sono dall'altra e non ho potuto fare il blog mas come mi ero prefissata di fare eccetera eccetera quindi è stato un po una fine dell'anno molto calma molto tranquilla qui sui social ma nonostante questo siamo comunque cresciuti siamo quasi a mille quindi io sono super contenta non vedo l'ora di raggiungere questo risultato non perché sia un numero particolare o faccia la differenza in qualsiasi tipo di maniera a livello monetario assolutamente no questi video non sono monetizzati quindi sono tranquillissima da quel punto di vista ma perché quando ho iniziato ad essere onesta voglio essere onesta con voi perché sono sicura che anche voi avete alcune volte questa percezione quando ho iniziato a fare video su youtube mi immaginavo di crescere molto velocemente non perché i miei contenuti fossero chissà cosa ma perché vedevo youtube come uno spazio in cui si cresceva tanto si cresceva molto velocemente a livello di numeri in realtà non è così dopo per quelli che sono entrati tardi quindi per le persone che sono entrate all'inizio si tantissima visibilità eccetera come poi in tutte le cose per chi è entrato tardi c'è un po' un zoccolo duro da rompere prima di iniziare a crescere quindi io all'inizio mi sono demotivata tantissimo perché ho visto che i numeri non crescevano mai quindi mille follower per me era qualcosa di veramente impossibile quando sono arrivata a 100 e ho potuto dare il nome al mio canale per me era già qualcosa di meraviglioso di aver raggiunto quei numeri quindi adesso pensare di essere a mille è strano è strano se se voi aprite aprirete mai un canale youtube e inizierete a fare video contenuti eccetera capirete diciamo il percorso che si fa per arrivare fin qui altrimenti fidatevi di me ed è fantastico arrivare a questi numeri e pensare che ci sono mille persone che hanno scelto di seguirti di supportarti è veramente meraviglioso anno nuovo bullet journal nuovo allora per il momento io sto usando il bullet wannabe di crimi che è questo qua l'ho già fatto vedere mi sembra nelle storie di instagram che è la linea di cartocose che ha creato miss crimi crimi allora se devo essere onesta devo lavorarci tanto attorno nel senso che è costruito è molto strutturato cioè ha le sue cose e se non ti vanno bene quelle cose fa un po' fatica infatti io lo so utilizzando in contemporanea con questo qui che è l'estetic notebook per programmare i miei contenuti perché qui dentro non riesco per esempio c'è una cosa che è il mio plan che io non uso e quindi sto usando per inserire i contenuti che devo andare a pubblicare quindi ci devo lavorare un po' attorno è bellissimo se fosse tutto punto in alto bianco e basta e magari avesse l'apertura come il leutrum cioè l'apertura piatta questo essendo così grosso non ha un'apertura piatta quindi è un po' difficile scriverci sarebbe la mia cosa preferita in questo momento ci sto lavorando attorno non è perfettissimo per gli utilizzi che devo fare io però era troppo belle quindi mi sono fatta corrompere comunque vediamo come andrà durante l'anno al massimo se vedo che non non riesco a farlo funzionare passo all'ectron che mi sono comunque fatta regalare per natale quindi ce l'ho in caso di emergenza comunque in questo momento sto appunto usando l'estetic notebook per programmare tutti i miei contenuti che quest'anno saranno parecchi perché appunto ho deciso di dedicare quest'anno a rispondere a un po' di dubbi esistenziali chiamiamolo così e per farlo ho scelto di mi sono lasciata ispirare da Matt Vella che è uno youtuber che io seguo e che mi piace veramente tantissimo fare dei video vabbè lui è un videomaker quindi super giustificato che faccia dei video così belli però a cui io mi ispiro molto perché proprio nel modo di raccontare e vorrei tantissimo quest'anno riuscire a diciamo dare un nuovo twist ai miei video in modo che siano un po' più interattivi adesso con calma questo non sarà un video interattivo questo è un classico coffee talk dicevo ho preso ispirazione da lui che l'anno scorso ha fatto questa cosa che è tipo il 12 challenge quindi 12 challenge durante l'anno sono challenge da 30 giorni in cui lui provava delle cose che voleva o voleva vedere se funzionavano come abitudini da portare avanti come leggere, meditare, fare la doccia fredda no grazie ogni cosa per 30 giorni alla fine dei 30 giorni facevo un video riassuntivo in cui condivideva la sua esperienza e dava il suo feedback diceva appunto se aveva funzionato per lui o meno se avrebbe continuato a fare quella cosa oppure no e via dicendo io ho deciso di farla in maniera un po' diversa nel senso che ho mantenuto la cosa delle 12 challenge non sono 12 challenge legate a buone abitudini ma sono 12 challenge legate o alcune si a buone abitudini ma più che altro voglio vedere se delle cose che so che funzionano per me a livello personale voglio vedere se fatte per 30 giorni di fila mi fanno veramente avere uno shift cioè uno spostamento, una crescita concreta oppure no quindi avrò 6 challenge personali e 6 challenge invece legate al business voglio vedere se facendo determinate cose per 30 giorni consecutivi a livello di contenuti o di relazioni sui social eccetera ho dei risultati oppure no perché voglio mettere questo punto esclamativo al posto del mio punto interrogativo quindi velocemente vi dico le challenge di quest'anno che ho scelto per me quest'anno nel caso in cui vogliate farlo anche voi non necessariamente nel mio stesso ordine perché io le ho ordinate in modo che abbiano senso all'interno del mio anno perché per esempio io d'estate sopro tantissimo il caldo e quest'estate sono andata completamente in down non riuscivo più ad accendere il cervello e quindi non ho messo delle challenge particolarmente difficili in quel periodo dell'anno perché se no sapevo già che sarebbe stata una ricetta per il fallimento quindi la mia challenge per gennaio è no buy no buy non vuol dire non spendere assolutamente neanche un centesimo no buy vuol dire non fare acquisti di impulso non fare acquisti personali quindi non comprare niente di abbigliamento, make up qualsiasi cosa per la casa eccetera quindi mi restringo a fare la spesa comprando lo stretto necessario cose fancy schwanzi che di cui non ho fondamentale bisogno possono restare nel negozio nel caso per esempio ho due compleanni quindi per loro comprerò il redalo non faccio la taccagna per le vite degli altri quindi comprerò il redalo per le altre persone però limito appunto gli acquisti per me stesse gli acquisti non fondamentali questa è una challenge molto importante perché uno un obiettivo che ho da parecchio tempo è riuscire a imparare a gestire al meglio le mie finanze così da mettere da parte i soldi per magari farmi dei viaggi eccetera perché sono un paio di anni che non viaggio proprio perché non riesco ad accumulare abbastanza soldi per poi spenderli in un viaggio e poi perché ovviamente sono una piccola imprenditrice lavoro da sola ho l'IMS da pagare quattro volte l'anno e mi sono risposta allora poi per febbraio invece ho scelto di fare un corso al giorno un corso al giorno cosa vuol dire? io ho avuto il regalo l'anno scorso un abbonamento alla piattaforma Skillshare che ho usato pochissimo perché pospongo sempre la parte formativa quindi quando ce la dico sempre questa tanto non è importante non è importante non è importante quindi non lo faccio mai scadrà il 9 febbraio e quindi io dovrò anche rinnovarla per un mese ma farò un corso al giorno sul Skillshare ci sono dei corsi monotematici di qualsiasi livello su qualsiasi cosa dal lettering alla SEO all'utilizzo della fotocamera penso anche a cose di cucina al cucito sicuramente quindi voglio fare un corso che durano solitamente un paio d'ore ogni singolo giorno sceglierò i corsi in modo tale da andare a toccare tutte le parti della mia vita sia personale che professionale che voglio diciamo un po' ravvivare ecco diciamo così poi marzo calendar block vi ho già detto questa vi ho già parlato di questa tecnica è una tecnica di organizzazione del tempo che praticamente ci impone di bloccare sul nostro calendario ogni singolo minuto della nostra giornata si può fare sia lavorativa che personale io la farò personale però a marzo lo farò da lunedì al venerdì quindi sia lavorativa che professionale però tagliando fuori il weekend lavorando le mie 7-8 ore al giorno come lavoro di solito e vediamo appunto i risultati il mese dopo farò blogging quindi resusciterò il mio blog che ormai è diventato un fossile e scriverò un blog post cioè pubblicherò un blog post ogni giorno per 30 giorni mi sono corretta perché cercherò di scriverne in parte anche prima perché se no io non ce la faccio so già di non potercela fare a scrivere un blog post ogni singolo giorno per 30 giorni però l'obiettivo è di pubblicarne uno al giorno per 30 giorni e voi siete felicissimi perché avete tantissimi contenuti a disposizione anzi se avete delle domande delle cose che volete che io approfondisca ditemelo subito perché così scelgo i titoli scelgo gli argomenti inizio a sviluppare e voi avrete le vostre risposte il mese dopo farò daily vlogging quindi saranno due mesi abbastanza carichi di contenuti farò daily vlogging quindi in quel caso sì filmerò ogni singolo giorno nel mese di maggio il mese di maggio filmerò ogni singolo giorno editerò ogni singolo giorno e pubblicherò un video ogni singolo giorno per 30 giorni sarà un mese intenso quindi speriamo di farcela questo è il mio obiettivo non mi tirerò la mazzata sui piedi la mazza sui piedi se salterò un giorno ma cercherò di non saltarlo l'unica cosa è non punto a fare un video di 20 minuti perché alcuni giorni saranno noiosissimi però di pubblicare qualcosa ogni giorno per 30 giorni e vedere se succede qualcosa il mio canale esplode voi vi interessate particolarmente della mia noiosissima vita oppure non lo so chissà cosa succede cosa succederà se uno vlogga tutti i giorni per 30 giorni pubblico contenuti tutti i giorni per 30 giorni lo vedremo insieme a maggio ovviamente dopo tutti ogni challenge c'è il suo video quindi ogni alla fine di ogni mese o meglio all'inizio di ogni mese aprite un video restantivo della challenge del mese precedente a giugno faccio uno shout out per giorno quindi per 30 giorni condividerò sul mio instagram quindi se siete interessati a questa cosa andatemi a seguire su instagram pubblicherò uno shout out quindi condividerò con voi un profilo un canale youtube un libro una rivista un articolo qualcosa che può essere interessante per voi ovviamente relativamente all'ergo di che tratto quindi non penso di condividere cose di cucina o di viaggi eccetera sarà legato alla crescita personale e al business development luglio leggerò come ho detto prima faccio luglio agosto mi sono tenuta dei mesi abbastanza calmi anche perché quelli precedenti saranno molto intensi quindi a luglio leggerò il più possibile l'obiettivo è 10 pagine al giorno mentre ad agosto i miei profili social verranno ammutoliti no in realtà resteranno così come sono però io cancellerò tutte le applicazioni social dal mio smartphone quindi bye bye instagram bye bye youtube bye bye facebook probabilmente in quel mese non so cosa farò farò altri corsi altri libri non lo so perché mi si libererà un sacco di tempo comunque quel mese io non tocco i social ho scelto ad agosto perché è un mese caldo ma anche perché è un mese in cui solitamente anche a livello lavorativo è abbastanza in down perché io ovviamente uso i social anche a livello lavorativo e quindi me ne sto tranquilla l'unica cosa non penso che programmerò a post perché voglio proprio vedere se un mese non tocco i social non condivido stories non condivido cosa cosa succede al mio profilo instagram se non lo tocco per 30 giorni penso siete curiosi anche voi di sapere questa cosa ecco bene a settembre vedremo i risultati spero non me lo hackerino perché se no manco me ne renderò conto a settembre torno e rifaccio calendar blocking preparandomi per l'ultima parte dell'anno però dato che ottobre sarà un mese particolarmente intenso così anche come settembre ho deciso di provare una cosa ovvero calendar blocking però lavorando 7 giorni alla settimana quindi invece di fare come a marzo che ho fatto calendar blocking per 5 giorni cioè lavorando 5 giorni alla settimana qui farò calendar blocking lavorando ne 7 quindi lavorerò 7 giorni alla settimana 7-8 ore al giorno quindi incluso il sabato e la domenica e vedremo i risultati vedremo se a livello di produttività effettivamente produrrò di più se riuscirò a gestire meglio i miei progetti o se andrò completamente fuori di capanna vedremo mi metto io al servizio della scienza ad ottobre ci sarà il mio compleanno e quindi ho deciso di fare il journaling quindi 30 giorni in cui ogni giorno scriverò su un diario scriverò farò proprio dumping getterò i miei pensieri sulla pagina e ho scelto di farla ad ottobre perché penso mi farà piacere leggere in futuro anche cosa è successo nel mese dei miei 30 anni e poi voglio vedere se questo journaling effettivamente per me funziona qualcosa perché io faccio molta fatica a scrivere tutti i giorni riguardo i miei pensieri quindi vediamo lo faccio per 30 giorni e vedo se funziona a novembre riprendiamo il trend che avevo iniziato l'anno scorso ma poi avevo smesso perché me l'ho dimenticata delle question box quindi su instagram tutti i giorni aprirò la box delle domande nelle stories e risponderò a tutte le vostre domande quindi però lo farò per 30 giorni tutti i giorni per 30 giorni anche il sabato e la domenica sempre a vostro servizio se non mi amerete alla fine di quest'anno io non so più cosa cosa fare a dicembre se ci arrivo se non vi succede qualcosa prima a dicembre farò un post al giorno quindi mi sembra l'anno scorso a inizio anno pubblicavo un post al giorno però forse non nel weekend dovrei andare a ricontrollare ma non sono sicura però voglio rivedere i risultati sul mio profilo pubblicando un post ogni singolo giorno su il mio profilo instagram ho scelto dicembre perché così potrò legarmi alla cosa del calendario dell'avvento ma più che altro più che il calendario dell'avvento potrò legarmi alla preparazione per l'anno nuovo perché dicembre è l'anno in cui facciamo i nostri buoni propositi capiamo quello che vogliamo raggiungere vorremmo raggiungere l'anno successivo eccetera eccetera e quindi ho pensato fosse il giorno il periodo migliore per fare questa cosa e potervi offrire effettivamente ogni giorno degli esercizi e dei contenuti validi per poter pianificare al meglio il vostro 2021 cioè stiamo già parlando del 2021 vabbè queste sono le mie challenge quindi sarà un anno molto intenso oltre a questo ci sono altri progetti che bollono in pentola e uno spero vivamente di potervelo presentare il prima 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 possibile perché poi vorrei che tutto il resto dei contenuti anche subisse l'influenza di questa cosa ovviamente la macchina fotografica ha bloccato sul più bello non sul più bello ma sulla fine comunque stavo solamente dicendo che penso di avervi detto tutto di avervi aggiornato su tutto quello che c'era da aggiornarvi su quest'anno nelle info box qui sotto vi lascio la lista delle mie challenge così se appunto vorrete farle anche voi non necessariamente in questo ordine potrete iscrivetevi al canale se non lo siete ancora così seguirete questo percorso durante questo 2020 io vado a finire il mio caffè che ormai sarà freddo perché ho blatterato tantissimo e vi auguro un buon inizio di anno e una buona giornata